E' del tutto evidente quindi che siamo di fronte a una pregiudiziale totalmente priva di fondamento e che per tale ragione deve essere nettamente respinta. Grazie l'onorevole Stasi. Sono così esauriti gli interventi sulla questione pregiudiziale. Passiamo al voto. Pongo in votazione la questione pregiudiziale Donadi ed altri numero uno. Dichiaro aperta la votazione. Onorevole Lanzillotta. Germana. Onorevole Germana. Onorevole Vico. Onorevole Farina. Onorevole Moroni. Onorevole Mantini. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Oh wow. Marevole Vico. E' un'emendamento 1.33, parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Di Caterina. Vannucci. Fatto? Corsaro. Dallago. Melandri. Stefani. Zaccaria. Zaccaria. Paladini. Tassone. Stefani ha votato. Tassone ha raggiunto la postazione. Tenaglia. 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 La votazione... Chi è? No. Destro. Fatto? Tenaglia ha votato, la votazione è chiusa. La camera... La camera... La camera approva. No. 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 Possiamo andare avanti? 1.34, parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione. Che è successo? Possiamo andare avanti, per cortesia. La votazione è aperta. Traversa, Follegotti, Mura, Ravetto, Ferranti, Iannuzzi, Rampelli, Lulli, Aracri, Ceccacci, Russo, Paolo, Dussin, 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 faccia presto. La votazione è chiusa. La Camera approva. 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 A cat with a dolphins, never mind the weather When you come to dormi's, the holidays forever Ha ha! Welcome